appassionati di gossip e tv bentornati nel mio canale non c'è pace per alex belli dopo la lite con aldo montano e le polemiche per il suo rapporto con soleil l'attore è stato travolto dalle critiche per una battuta di cattivo gusto su manuel alex soleil e davide erano in giardino a fantasticare su un ipotetico musical riguardante i concorrenti del grande fratello a un certo punto cadono uno a uno a terra quando diciamo eliminare uno alla volta tutti cadiamo soleil rispondendo all'amico ha detto l'ultimo cadere è davide a quel punto belli però ha tirato in ballo manuel bortuzzo no ultimo rimane manu perché non può cadere soleil ha riso poi ha sossurrato stupido e tra i tre è calato un po il gelo come sempre i social sono una cassa di risonanza enorme per queste cose e moltissimi hanno condannato l'uscita di alex belli compresi gli staff di manuel bortuzzo e aldo montano che sono arrivati a chiedere provvedimenti per i tre gf e voi che ne pensate fatemelo sapere nei commenti e se vi va iscrivetevi al mio canale al prossimo video ciao